ok allora dovremmo proseguire con le funzioni adesso andiamo avanti con le funzioni però prima vi faccio vedere una cosa che in effetti un vostro collega mi ha chiesto e io lo devo un po troppo per scontato come faccio col visa studio code si allora aumentiamo un po il volume purtroppo c'è questo rumore di fondo che non so da dove arrivi si sente un po meglio ok bene e mi hanno fatto notare come faccio a fare il pool come si diceva prima direttamente viso studio code che la cosa più comoda no allora vi faccio vedere come collegare il reposito del viso studio col che è una cosa molto semplice e quindi si può fare ovviamente tutto nel terminale eccetera ma diciamo per comodità vediamo di non farlo quindi voi aprite il viso studio code che ci siano già una cartella aperta o no non fa niente noi andiamo sul git ecco o ci viene clone repository direttamente qui che possiamo farlo oppure se c'era già una cartella aperta quindi che so io adesso faccio così no se c'era già una cartella aperta andiamo qui c'è inizialize repository eccetera ma da qualche parte nel menu deve esserci il clone adesso no ovviamente ogni volta c'è c'è un pezzo diverso però allora facciamo così e la cosa più semplice adesso non trovo più dove dove nel menu se fate inizialize ah no scusa ecco va bene viene fuori anche qui clone git repository insomma dovete cercare la funzione clone ok cosa scrivete qui dovete scrivere quello che vi suggerisce il github via web quindi qui code c'è il il link da mettere poi potete mettere tranquillamente la htps se fate solo pool anche la cosa forza più semplice se poi dovete fare anche push quindi scrivere il consiglio poi di sistemare tutto quanto per diciamo usare la una chiave ssh che la cosa più semplice perché non scade eccetera perché git diventato un po come dire macchinoso sulla questione password eccetera ve lo fa scadere venne da ve lo da per un certo tempo c'è quindi appunto se investite un attimo di tempo guarda sulla documentazione come creare una chiave mettervela è la cosa più semplice io l'ho già fatto e quindi uso questo perché così mi consente anche di scrivere se non non posso scrivere ma fa lo stesso noi qui mettiamo questo url ok che magari appunto inizio per htps diamo invio mi chiede dove vuoi metterlo e adesso lo metto in un posto diverso per non sovrascrivermi niente altro quindi mi faccio un chissò test ok lo metto nella cartella dove voglio mantenere le cose ci mette un attimo fa il suo clone e poi mi dice va bene cosa vuoi fare vuoi aprire la cartella vuoi aprire in una nuova finestra perché possa anche avere più cartelle aperte contemporaneamente vuoi aggiungere al workspace il workspace non è nient'altro che una serie di cartelle tutte messe insieme in un unico progetto di visual studio code quindi potete aprire tutte quante qui a sinistra nei file noi all'inizio semplicemente apriamola basta così e ci ritroviamo tutto quanto ok quando c'è necessità scusate andate sul sul git quindi sul sul control e potete fare pull ok adesso ovviamente non cambia niente e girerà un attimo si accorge che non cambia niente finisce lì se no mostrate dunque cos'è l'output mi sembra no il kit insomma da qualche parte se c'è l'output del kit e vi dirà che tutto aggiornato comunque le cose che sono cambiate vengono evidenziate anche qui a sinistra ok quindi in questa maniera avete tutto il visual studio code e se volete prendere andare a fare una modifica potete andare direttamente a fare tanto sono file vostri sul vostro computer deve prendere salvare e poi farci tutto quello che volete nod array perché non ha scusate qui adesso ho clonato l'intero repository e quindi io qui sono in a1 wix e devo entrare in wix 1 ho clonato tutto il repository perché così c'è sempre tutto e allora adesso c'è il file che cos'era il spread e viene eseguito qui vi evidenzia il fatto che avete cambiato qualcosa rispetto al repository remoto fate quello che volete tanto non potete scrivere quindi potete fare tutto quello che desiderate ci sono poi tutta una serie di funzionalità utili che magari vediamo mano a mano però appunto se andate su sulla sull'elemento del controllo di versione potete anche tornare alla versione originale buttando via i vostri cambiamenti e così via ok piano piano ci prendete la mano ok andiamo avanti se no non riusciamo a fare questo aspetto che estremamente importante che sono le funzioni e poi cerchiamo di fare un po di esempio anche qui ok quindi le funzioni sono nelle uno dei più importanti elementi in javascript perché perché avete visto che usiamo dappertutto entrano un po dappertutto si possono assegnare le variabili insomma sono degli oggetti di fatto che su cui possiamo che possiamo chiamare prendo chiudendo le parentesi tonde con dei parametri e in più hanno un ruolo speciale in javascript che è quello di delimitare un blocco di codice con uno scope quindi uno spazio privato questo è l'unico modo che abbiamo di fare qualcosa di privato in javascript ok creare una funzione quello che scrivano dentro la funzione privato della funzione cioè apriamo e chiudiamo con la graffa e lì dentro c'è qualcosa visibile solo alla funzione a ciò che c'è dentro quello quel blocco ovviamente da dentro quel blocco si può vedere fuori ma da fuori non si può vedere dentro in questo senso è privato ovviamente prendono parametri valori di ritorno eccetera sono funzioni come siamo abituati a definire una funzione nei linguaggi di programmazione l'importante che sono anche oggetti quindi si possono trattare come come tutto il resto che abbiamo visto come gli array come gli oggetti quindi li possiamo assegnare a delle variabili li possiamo passare anche come argomenti di altre funzioni li possiamo passare come valori di ritorno di altre funzioni tutto possiamo fare come facciamo a definirle bene c'è una parola chiave apposta function e diciamo nel sistema più come dire intuitivo come negli altri linguaggi di programmazione noi certi si chiama faccio in certi dipende dalla sintassi però diamo un nome du della funzione scriviamo i suoi parametri aperta graffa e il nostro codice ok quindi funzionare per fare quadrato parede parametro x non ha un tipo è come insomma l'abbiamo già visto tante volte quindi c'è solo il nome dei parametri questo c'è solo un parametro facciamo i nostri calcoli poi abbiamo il return per ritornare un valore se lo desideriamo come si usa si chiama coi parametri parentesi tonda no come potremmo dire che quasi codice cino questo ok ecco vedete tra l'altro punto square e se lo eserguissimo col python tutor adesso non abbiamo tanto tempo quindi non lo faccio però diciamo è un oggetto ovviamente anziché contenere dei numeri delle proprietà e contiene il codice della funzione ok quindi anche questo è un riferimento come si passano i parametri si separano con la virgola va bene guardiamo un po la sintassi possiamo avere i valori di default che si scrivono in questa maniera ci assegniamo un valore nella lista dei parametri e quello il valore di default cioè se non è passato quel valore il quella variabile all'interno della funzione avrà il valore di default i parametri sono passati by value nel senso che se sono valori primitivi vengono copiati se sono riferimenti viene copiato riferimento quindi come potremmo dire come in c nel senso che se passate un array non potete passare il valore ma passare il puntatore stessa cosa qui però il puntatore è una copia anche qui riferimento da una copia tutto ciò che non è passato prende undefined in che senso nel senso che io posso avere una funzionale che ha parametri abc e la chiama solo con a quindi non è un errore come in altri linguaggi chiamarla solo con un parametro se ha tre parametri si può fare si può fare di tutto in javascript e quello che non è passato prende undefined a meno che non abbia il suo valore di default ok e quindi ci viene immediatamente comodo quella sintassi che avevamo visto diciamo la prima lezione no quel doppia barra perché così possiamo assegnare anche un valore di default perché se p andefined valuta valuta falsa prendiamo il valore di destra ok da usare con attenzione perché chiaramente se dovessimo usare i valori numerici 0 valore buone insomma bisogna fare attenzione però diciamo importante è sapere come funziona possiamo avere un numero variabili di parametri quindi anche un numero variabili parametri ecco c'è di nuovo l'operatore tre puntini che in questo caso si chiama non spread ma rest che però funziona in maniera molto simile a quell'altro cioè compatta tutti i parametri al suo interno quindi c'è vogliamo isolare dei parametri quindi i primi due parametri li isoliamo in due variabili apposta parametro 1 parametro 2 e poi tutti gli altri vanno a finire in ar che quindi diventa un array perché se ne deve contenere più di uno per forza un array ovviamente deve essere l'ultimo perché vabbè per come è organizzato il linguaggio e poi come facciamo a scorrere un array come abbiamo fatto prima no for off oppure volete fare i 0 i minore di lente e così via e ne facciamo ciò che desideriamo volete fare una funzione che sommi tutti i parametri che ha appunto potete fare come qui farà un for fare un contattore iniziale sam valore iniziale se volete passarlo sono ci mettete zero fate quello che volete sam più uguale a ogni giro alla fine ritorno il totale mi sembra abbastanza intuitivo questo codice punto da fondamenti di informatica a parte la sintassi altro modo di usare le funzioni e di trattarle come oggetti assegnare una variabile ok quindi qui a destra vediamo come fare cost nome di una variabile che mantefende uguale quello che ho scritto prima function eccetera perché function è un oggetto posso assegnarlo posso passarlo posso farne qualsiasi cosa un valore che è di tipo funzione posso farlo in due maniere sia senza il nome della funzione sia col nome della funzione che differenza c'è nessuna anzi direi il secondo è inutile nel senso che questo du non lo vedo più poi nel codice perché io solo riferimento alla funzione la funzione la cedo solo più con questo riferimento fn mentre prima il riferimento edu perché viene creato automaticamente dal linguaggio un riferimento tu con il codice la funzione qui non viene più creato e quindi diciamo serve a fare il copia in colla non serve niente altro quindi posso fare una funzione senza un nome perché tanto riferimento userò fn per chiamarla quindi esempio let cube o cost cube potevamo anche mettere function c allora andiamo a chiamare square per x eccetera quindi faccio al quadrato per x ritorno al valore come faccio a chiamarlo prendo il nome della variabile cube non posso scrivere cd 4 qui non funziona cd 4 ok perché c è il nome che ho messo qui ma in realtà non serve a niente perché una funzione e questo nome serve se lo uso così square funziona se io metto n uguale square allora quello aperta tonda a quello funziona ok quindi la espressione funziona aperta tonda aperte graffi crea un nuovo oggetto di tipo funzione e ritorno il risultato nel senso il risultato è l'oggetto di tipo funzione poi quando la chiamo la funzione mi dà il suo valore di ritorno c'è quello che ho scritto nel return qualsiasi variabile si può rifinire alla funzione può essere usata per chiamarla posso mettere queste funzioni dovunque è completamente ortogonale linguaggio in questo senso cioè posso metterle in un array come proprietà di un oggetto quindi avere un metodo dentro l'oggetto oppure posso passare come parametro un'altra funzione avere la cosiddetta call back è solo un modo di dire di quando passo come parametro di una funzione un'altra funzione il caso tipico è la sort la funzione sort che ordina prende come parametro una funzione per fare il confronto tra due elementi così potete decidere come gestire l'ordinamento quello è un modo che tra l'altro funziona anche in tanti altri linguaggi con una sintassi magari più complessa per passare una funziona un'altra funzione c'è un modo utile vedremo che saremo pieni di call back in c in scusate in javascript perché perché tutte le volte che c'è da gestire un evento e così via cosa facciamo passiamo al gestore dell'evento una funzione da eseguire nel momento in cui quell'evento si verifica click vai a chiamare quella funzione muovi il mouse vai a chiamare quella funzione si cambia qualcosa nella pagina vai a chiamare quella funzione e così via quindi come facciamo a registrare queste funzioni le passiamo come parametro il gestore dell'evento che ci deve mettere a disposizione l'ambiente il nod non ce l'abbiamo ma nel browser avremo un gestore degli eventi ok ecco c'è un ultimo modo non ultimo in ordine importanza perché usatissimo che la funzione cosiddetta arrow cioè freccia con questa sintassi uguale maggiore uguale maggiore che ha la forma di una freccia le chiamano arrow function che è una sintassi semplificata della precedente a questo punto ci basta sapere questo vedremo che poi ha qualche peculiarità nella gestione del dis insomma cose su cui torniamo però in questo momento iniziamo parlare di funzioni e diciamo un modo semplice per scrivere le funzioni qualcuno magari vuole chiamarle tipo landa functions cose di questo tipo no quelle piccole funzioni definite in line nel codice con pochi caratteri in uno spazio limitato per perché c'è bisogno magari di passare un'altra funzione c'è bisogno di ridarle a qualcuno a qualcosa e allora anziché scriverci proprio tutto function e accennano una variabile e prende quella variabile passare a scrivere tanto così di codice riusciamo a scrivere tutto in maniera molto compatta come funziona non c'è la keyword function c'è aperta e chiusa tonda sempre per forza perché devo dire che una funzione freccia e poi il codice ok con le graffe che vedremo a seconda di cosa scriviamo dentro sono pure opzionali e anche le aperte chiusa tonda sono opzionali a seconda del numero di parametri perché perché vogliamo una scrittura compatta in parole povere ok quindi diciamo quarta potenza forza uguale aperta tonda X chiusa tonda freccia quindi parametro della funzione X freccia codice aperta graffa return square per square ok quindi questo è un ulteriore modo di scrivere il codice di una funzione ok guardiamo le arrow function in tale arrow function possiamo scriverle anche in una maniera estremamente compatta quindi nessun parametro dobbiamo mettere le tonde se no non si capisce niente non si capisce che non funziona se c'è un solo parametro però è solo in questo caso possiamo anche omettere le tonde ok il parser non si confonde dopo l'uguale vede che poi c'è la freccia e allora questo lo considera il parametro neanche prende param e me lo assegna fan a sinistra prende tutta la funzione me la assegna ok graffe col contenuto addirittura vedremo che se abbiamo un'unica istruzione vogliamo ritornare il valore di quell'espressione di quella istruzione possiamo anche omettere le graffe ok e automaticamente ci viene ritornato quel valore se abbiamo più di un parametro è obbligatorio avere le tonde e anche se vogliamo mettere i parametri di default ok il valore di ritorno di una funzione javascript e and the find a meno che noi non mettiamo un return e ci mettiamo qualcosa ok quindi c'è sempre il valore di ritorno solo che and find è un po come una variabile non inizializzata si può ritornare solo un valore quindi diciamo tipo c però può essere qualsiasi cosa quindi non è una limitazione particolare possiamo ritornare un array possa ritornare un oggetto possiamo ritornare una funzione e così via un array che contiene numeri stringhe funzioni e quindi possiamo ritornare qualsiasi cose quindi questo di fatto non è una gran limitazione ecco se c'è un solo valore abbiamo una sintassi ancora più semplificata come vi dicevo prima possiamo aprire la graffa e scrivere turn e va bene però per fare solo questa operazione se abbiamo una sola espressione quella costituisce il valore di ritorno possiamo semplicemente scrivere espressione automaticamente quello solo nell'arrow function diventa il valore di ritorno ok quindi senza parentesi sostanzialmente abbiamo scritto una funzione ok ovviamente in questo senso se non c'è visto che non c'è il nome della funzione per poterla usare o la passiamo come parametro a qualcuno o dobbiamo assegnarla una variabile non è che come function con un nome quella esiste perché ha un nome sennò la perdiamo non abbiamo più riferimento alla funzione possiamo avere funzioni annidate in altre funzioni e questa è un'altra funzionalità javascript particolarmente importante anche perché poi ci crea chiamiamola così un problema ma anche un'opportunità è che quello delle closure di cui parliamo tra un istante quindi io apro il codice di una funzione dentro una funzione posso definire un'altra funzione come posso creare un array posso creare un oggetto eccetera posso creare un'altra funzione attenzione abbiamo detto lo scope della funzione privato quindi ciò che vi è definito lì dentro sarà visibile solo dentro quel blocco della funzione quindi esco dalla funzione non è più visibile ciò che ha definito lì dentro gli array se non tiro fuori un riferimento non è più visibile per quindi col valore di ritorno sostanzialmente quindi se creo dei valori invariabili se creo degli array degli oggetti e delle funzioni queste non sono più accessibili da fuori quindi esempio ipotenuso dentro la mia funzione square che fa il quadrato per comodità però se io esco fuori dal codice e voglio fare un quadrato non ho a disposizione square perché square è visibile solo dentro il codice della funzione ok quindi non può essere chiamato da fuori da dentro il codice della funzione invece si può fare accesso a tutto ciò che sta fuori ma questo è diciamo naturale no quindi in uno scopio interno si fa accesso a ciò che sta al di fuori invece il contrario non vale no dallo scopio esterno non si fa accesso a quello interno ok questo ci porta ad un problema ma anche opportunità come vi dicevo no mi raccomando questo è un concetto importante in realtà poi lo lo cioè ci abitueremo e sarà usato in maniera un po implicita no però almeno all'inizio cerchiamo di capire cosa succede perché se non capiamo questo poi qualcuno vi parla di una closure in javascript sappiamo cosa vuol dire diciamo certi comportamenti poi non riusciamo a spiegarci allora questa è la definizione formale che molto astrusa è una closure è un nome dato ad una caratteristica del linguaggio per cui una funzione annidata internamente eseguita dopo l'esecuzione della funzione più esterna può ancora accedere allo scopo della funzione più esterna ok cioè adesso vediamo un esempio se no non si capisce nulla possiamo annidare queste funzioni cosa succede se ritorniamo una fu il come valore di ritorno della funzione più esterna la funzione più interna noi possiamo farlo non c'è nessun problema abbiamo detto che possiamo sempre ritornare come valore qualsiasi cosa incluso una funzione ma se questa funziona ha la possibilità di accedere a qualcosa di visibile solamente all'interno della funzione più esterna che la funzione più esterna crea uno scopo abbiamo detto privato suo io ho creato una variabile qui mai name uguale name oppure il parametro che visibile solo all'interno della dello scopo della funzione e questa funzione più interna la usa e io ritorno questa funzione più esterna più interna quindi lello cosa succede nel momento in cui la chiamo perché la funzione più esterna non esiste più no non è in esecuzione che succede se la chiamo come fa accedere a quella variabile bene queste funzioni ricordano lo scopo quindi il blocco nel quale sono stati definiti anche quando la funzione più esterna non è più in esecuzione ricordano nel senso del ricordano il valore che avevano le variabili che erano accessibili a quelle funzioni più interne in questo caso ricordano il valore di my name ok questo si chiama closure quindi se vediamo questo esempio adesso ce lo guardiamo con calma se no non riusciamo a capire questa closure poi magari lo proviamo pure questo vale la pena di provarlo allora use strict va bene funzione saluti diamo un nome va bene cos my name uguale name potevamo anche direttamente usare name non fa niente abbiamo fatto un po di pratica viene finita una variabile locale costello un'altra variabile locale uguale function potevamo farla con la raw function qui l'abbiamo fatta in maniera un po più esplicita scritto function return e lo più my name quindi questa funzione quando viene eseguita deve prendere il valore di quella variabile return hello quindi ritorno la funzione non non la funzione chiamata quindi il valore di ritorno della funzione non chiamo la funzione qui ritorno la funzione stessa l'oggetto funzione chi sta fuori prenderà chiamerà la funzione più esterna gritter con un parametro è previsto un parametro vero che possiamo non dargli se no finisce l'esempio diamogli un parametro una stringa questa funzione più esterna ci crea una funzione interna e ce la restituisce ok noi non l'abbiamo chiamata alla funzione più interna in questo momento però l'abbiamo presa e messa in un'altra variabile questo è l'ottom ok quindi abbiamo riferimento alla funzione interna ma la funzione più esterna finisce l'esecuzione perché una volta che eseguita questa linea gritter non è più in esecuzione finito di eseguire mi ha dato il valore di ritorno che la funzione più interna ok vado avanti posso fare tutto il codice che voglio se voglio la posso chiamare anche con altri parametri ok e mi restituirà un riferimento sempre con la funzione più interna ok quella funzione più interna quando la chiamo tramite riferimento che ottenuto dal valore di ritorno eseguirà il suo codice quando chiamo una funzionale funzionale esegue su codice per eseguire il suo codice deve dare un valore al my name con catena due sting e lo è my name my name che valore a bene le funzioni si ricordano lo scopo in cui sono state definite ok non eseguite definite qui è stata definita non è stata eseguita dalla funzione in questo in questo senso si dice che java scritta uno scopo di tipo lessicale cioè nel momento in cui la funzione viene definita ha un suo scopo alla possibilità di accedere a delle variabili e si ricorderà i riferimenti a quelle variabili ok ok quindi io quando chiamo console log hello tom vedrete che mi viene stampato hello spazio e poi il valore che avevo passato tom perché questa funzione che viene ritornata che non ha un nome perché non glielo ho dato ma tanto non mi serve si ricorda il valore di my name che in quel momento era tom ok e che continua ad essere tom e così via analogamente per jerry ok se vogliamo cercare di capirlo diciamo questo è se se volete capire come funziona dentro se vi aiuta se no cancellate è come se la funzione più interna si ricordasse un puntatore ad una casellina di memoria dove c'è la variabile che semplicemente visto che ancora a disposizione la funzione più interna non viene mai deallocata no quindi javascript è sostanzialmente un garbage collector no quindi finché non ho quando non ho più riferimenti la memoria viene liberata la funzione più interna riferimento a quella variabile quella variabile quando non diciamo quando mi sparirà anche la funzione più interna andrà via però finché c'è ho riferimento e quindi da qualche parte nella memoria c'è questa variabile accessibile solo da quella funzione che ha un suo valore che quindi può essere usata quando eseguo il codice ok sì no no funziona funziona qualsiasi caso funziona in qualsiasi caso perché ogni volta che viene eseguito gritta viene creata una nuova variabile sì ok nella slide successiva sì perché è una questione di scope esegue una nuova funzione si crea lo scope si crea una nuova variabile locale chi la metta const let non non cambia la messa cost perché abbiamo detto ci siamo fissati con questa cosa di mettere const se non è se non è indispensabile usare let ma funzionerebbe anche col parametro ok quindi il my name va a finire fuori dello scope ma non è distrutto perché perché c'è la funzione più interna che ancora un riferimento a quella variabile e quando viene eseguita deve poter dare un valore a quella variabile ok quindi questo è il meccanismo della closure lo proviamo proviamo vediamo un po se se dovrà mostrarci allora perché copi allora dunque qui cosa ho fatto qui sono su quel week 01 vado sulla mia folder sentitemi è lo stesso perché ho anche il permesso di scrittura però allora adesso facciamo la closure quindi clausure js ok quindi in copio copia incollo il codice così facciamo un po di pratica col viso studio e per la prossima settimana opla warning note non c'entra niente returne lo mi sa che qui fare copia incolla un attimo fare attenzione sì 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 grazie c'era vabbè vola format document vabbè ok a no era posto no returne lo era solo il commento ok se non facciamo il format appunto non ci capiamo più niente nel codice giustamente grazie ok allora cosa succede e beh prima di tutto proviamo a eseguirlo l'ho salvato sì così vediamo se funziona la prima volta mi stampa è lotto la seconda è lo jerry quindi funziona dica use strict ragione bravissimo strict diciamo che noi tendenzialmente non usiamo comportamenti pericolosi però sempre bene metterlo è si sa mai quello che può capitare funziona funziona anche con gli oggetti solo che con gli oggetti ricorda il riferimento se nel frattempo qualcuno ha cambiato l'oggetto ovviamente ha riferimento quell'oggetto cambiato cioè qui se io apro la parentesi graffa e crea un nuovo oggetto o due oggetti diversi allora sì sono due oggetti diversi se nessun altro ha riferimento a quel a quell'oggetto resterà lì nessuno lo tocca e funziona anche con quell'oggetto sì sì perché è il valore che c'è dentro la variabile che che rimane accessibile no indipendentemente dal tipo di quel valore può essere stringa numero riferimento ok allora proviamo l'esecuzione e facciamo quella passo passo speriamo adesso che funzioni dunque sembra nod run current file se non sbaglio ok si ok bene allora notate non ho messo il breakpoint qui qui mettere il breakpoint qui non serve a niente perché io voglio all'inizio la prima istruzione che viene eseguita è questa della linea 12 il resto è solo una definizione di funzione è come se ci aveste un ton di funzione poi avete main il breakpoint lo mettete alla prima istruzione del main non è che potete metterlo sulle altre funzioni perché vengono eseguite dopo quindi queste sono solo dichiarazioni cost hello tom allora gritter schiaccio il bottone per entrare nella funzione se l'altro mi fa saltare al passo alla linea successiva e quindi non vedo niente della funzione quindi entro dentro vado dentro gritter viene eseguita ok quindi il my name prenderà il suo nome tom anche il parametro hello ok occhio è qui io adesso schiaccio questa funzione questa funzione non viene eseguita non andiamo su return perché questa è definita qui non è eseguita ok quindi se schiaccio non andiamo alla linea 6 ma andiamo alla 8 ok perché questa è definita in questo momento return hello cosa c'è cosa c'è cosa c'è cosa c'è cosa c'è cosa c'è una funzione c'è questa funzione il codice no? proprio return hello più my name proprio il codice ok? ok lo metto dentro in in hello tom in hello tom c'è quella hello my name se andiamo no non c'è qui va bene ah no ecco in scops occhio potete anche vedere qui siamo andati nella funzione cioè nella variabile hello tom che è riferimento a una funzione quella che ci è stata restituita andiamo a vedere come è fatta la funzione va bene c'è il suo codice e un sacco di cose ci sono gli scope se voi andate a aprire gli scope c'è anche la closure quindi se siete curiosi poi di capire per conto vostro a farvi altri esempi eccetera e vedere come funziona vedete che c'è la closure e vedete anche che cosa è a disposizione di quella funzione nella closure di greeter cioè di quella funzione più esterna c'era il my name tom che è una variabile locale che è a disposizione oramai solo più di questa funzione in questa closure perché l'altra funzione ha cessato di esistere è stata eseguita le variabili locali alla fine vengono distrutte i riferimenti perlomeno stessa cosa succede per la hello jerry quindi noi andiamo avanti di nuovo viene eseguita di nuovo non entriamo perché qui è solo dichiarata ok? return hello e avremo sulla hello jerry la stessa cosa se noi andiamo a cercarci la closure ci trovate jerry ok? finalmente le chiamiamo le chiamiamo quindi vabbè c'è il console log intorno poteva assegnare console un const e tira fuori la stringa e stamparla però insomma entriamo hello tom la chiamiamo senza parametri è una funzione che non prende parametri quindi va benissimo non avevo niente da passare schiaccio andremo ad eseguire il codice ok? quindi entriamo nella funzione e ritorneremo hello più my name ok? nella closure c'è tom perché quando abbiamo definito quella funzione alla prima volta la variabile valeva tom la stringa tom quindi andiamo avanti ci farà return hello tom return value e poi il console log ce lo stampa e stessa cosa per l'altra ok? quindi avete la possibilità di fare il vostro esperimento e vedere anche che cosa sta succedendo per capire bene il meccanismo della della closure ok? il vostro collega ci diceva se avessimo messo let no? ma non penso proprio che cambia ah ok ok va bene comunque avendo il codice potete fare tutti gli esperimenti che volete adesso qui c'è il terminal che mi si è ristretto quindi ho salvato fate l'esperimento insomma oppure col debugger fate tutte le prove che volete const lo lasciamo lì facciamo così che dinamicamente più o meno intanto vi faccio eh ho sbagliato qui volevo fare closure e aggiungo esempio closure così ce l'avete anche sul vostro pc al volo eh facendo push e dovrebbe spuntarvi eh se abbiamo la lezione il più interattivo possibile eh va bene ehm per quelli di voi che vogliono guardarlo subito e se no con calma guardate dopo la lezione ok abbiamo ancora mezz'ora ma ci stiamo una volta che abbiamo uno scope finalmente privato possiamo fare tutto quello che siamo abituati a fare nella programmazione oggetti no? definire l'equivalente di una classe mettere delle cose private che toccano solo i metodi interni alla classe e così via che è l'idea della programmazione oggetti se tutto è pubblico insomma si lascia il tempo che trova allora come faccio a emulare un oggetto faccio una funzione apro uno scope dentro ci metto questi che sono l'equivalente delle proprietà private se voglio creo dei metodi definendo delle funzioni questo è fatto con un arrow function prima abbiamo fatto function vero? dove era? prima c'era function posso farlo come voglio nelle arrow function mi sono perso la qual'era? qual'era sopra ok questo quindi definisco una funzione due eccetera che sono i metodi che hanno visibilità sulle proprietà interne di quello che io voglio far diventare una specie di oggetto e ci fanno sopra le operazioni per esempio incrementa decrementa fai tutto quello che vuoi ok cosa faccio ritorno il metodo questo è un oggetto semplice che è un solo metodo quindi const count1 chiamo la funzione counter mi ritorna il metodo e io tutte le volte che chiamo il metodo il metodo mi darà un numero in più però essendo che è una closure se io chiamo un'altra volta counter un altro contatore separato dal precedente come prima avevo il my name separati qui il contatore è separato quindi ho di fatto creato una specie di meccanismo che mi crea un nuovo oggetto anche se non ho il class il new non ho usato tutte queste cose ok ve lo dico giusto per informazione poi in realtà programmare in questa maniera sarebbe un po' come dire cervellotico macchinoso difficile da mantenere così via però ve lo diciamo perché magari incontrate del codice che fa qualcosa di simile e poi perché nel momento in cui ho bisogno di proteggere qualcosa se no vi chiedete come si fa in javascript se non esiste niente di privato quando ho tutto nello spazio globale quando metterò insieme due file tre file quindi più programmi insieme come faccio si deve usare sostanzialmente questo meccanismo e ovviamente posso fare quello che voglio quindi ritornare un oggetto che contenga più proprietà e se queste proprietà sono delle funzioni avrò ritornato un oggetto che ha più metodi ok quindi counter col count e reset oppure col next prev e così via quindi basta che poi sappia come si chiamano quindi li chiamo usando la sintassi diciamo corretta quindi punto qualcosa quindi il nome count e così via che sono le due proprietà dell'oggetto che ho ritornato che corrispondono a dei riferimenti alle funzioni che hanno visibilità sulla closure che creo chiamando la funzione più esterna ok quindi se ne creo due sono indipendenti come vedete dall'esempio quindi abbiamo capito che le funzioni proteggono lo scope delle variabili e delle funzioni più interne e quindi diciamo che questo è il meccanismo che potrei usare per proteggere una serie di variabili da chiunque altro nel mio programma questo meccanismo prende il nome di immediately invoke the function expression nel senso che di solito voglio prendere tutto mettere tutto in un'unica funzione invocarla immediatamente quindi perché se non le invoco non creo lo scope e tutto quanto resta chiuso dentro la funzione appunto con la closure addirittura posso invocarla senza neanche dargli un nome che resti visibile all'esterno come faccio definisco la funzione la funzione è un oggetto ora chiudo tra le parentesi tonde e la chiamo subito immediatamente nel codice ok per questo si chiamano invocate immediatamente no se cosa cosa fa questa se questa funzione mi ritorna un oggetto che avrà dei metodi e così via di fatto lo posso assegnare a qualcosa e avere a disposizione questo oggetto con i suoi metodi e così via che agisce su sue variabili private ok e praticamente questo è il meccanismo col quale sono creati sono realizzati tutti i vari moduli libreria in javascript perché così ognuno può farsi le sue variabili sui metodi eccetera vi dice quali metodi sono a disposizione ma non potete andare a toccare le variabili come succede nella programmazione oggetti ben ben fatta lì si creano gli oggetti qui diciamo c'è questo meccanismo che ci consente di importare delle funzionalità esposte sotto forma di oggetti con delle proprietà che sono dei metodi che possiamo usare sono tutte fatte così al loro interno in javascript a noi interessa aver capito il meccanismo e poi saperlo utilizzare difficilmente scriveremo noi una immediate invoked function expression ok però diciamo visto che sia nella laurea magistrale in ingegneria informatica parliamo di queste cose di javascript abbiamo fatto un discorso completo abbiamo diciamo spiegato anche come funzionano queste cose quindi se noi avessimo appunto un C immediate invoked function expression quindi C potreste vederlo come modulo contatore il contatore e tutto quello che c'è dentro rimane invisibile a voi non l'ha scritto qualcun altro può aver usato i nomi delle variabili che vuole tutto quello che vuole e e voi semplicemente lo usate tramite quello che ha messo a disposizione cioè i metodi ok ancora una cosa scusate fatemi vedere solo a che punto siamo ah si poi ci sono le date ma va bene ok siamo all'ultima slide delle funzioni ecco esistono anche le cosiddette funzioni costruttore poi più avanti nel corso parliamo di quello che potrebbe essere definito come come dire le classi in javascript però abbiamo già detto non esistono le classi in javascript hanno solo introdotto della sintassi per fare in modo che questo funzionamento degli oggetti assomigli un po' di più alle classiche classi degli altri linguaggi allora in questo senso diciamo ci sono una serie di caratteristiche che possono essere usate in maniera simile a quello che siamo abituati nei linguaggi di programmazione ad oggetti tradizionali quindi se noi definiamo una funzione di solito si fa con la lettera maiuscola per comodità non per capirsi non è obbligatorio però per diciamo per ricordarci che è una funzione che vorremmo utilizzare come costruttore quindi chiamarla col new anziché direttamente possiamo creare qualcosa di simile ad un oggetto quindi la sintassi è questa function il nome della funzione ci mettiamo i parametri che sarebbero i parametri del costruttore può essere nessuno può essere più di uno quello che vogliamo a seconda del nostro oggetto e poi li impostiamo con il this torneremo a parlare poi del this questo è il modo e possiamo creare diciamo un nuovo oggetto quindi torniamo agli oggetti di prima un oggetto si può creare con new e una funzione una funzione che però per impostare le proprietà deve usare questa sintassi cioè this punto ok questo è diciamo capite quello che vi dicevo l'altra volta linguaggio nato in dieci giorni e diciamo che ha stato a certe certe caratteristiche che non sono proprio così intuitive sono state come dire sistemate un po' nel corso del tempo quindi per concludere il discorso adesso che sappiamo cosa sono le funzioni come funzionano le funzioni da una funzione possiamo creare un oggetto non semplicemente facendocelo ritornare se car fosse una funzione normale ci fa return aperta graffa ci ritorna un oggetto se invece noi la chiamiamo con new new car ci ritorna un oggetto anche se io qui non ho messo un return un oggetto che è composto dalle proprietà che ho scritto dentro il suo this ok this è una parola chiave di javascript quindi sempre quella e ne parleremo più diffusamente più avanti facciamo dunque l'esempio nell'ottom l'abbiamo provato questa funziona in realtà facciamo parliamo un attimo delle date così chiudiamo questo discorso tanto la questione delle date è molto breve nel senso vi diremo usiamo la libreria però proviamo a usarla perché così vedete come fare ad utilizzarla in visual studio code o meglio in node e poi lo facciamo da dentro visual studio code allora proseguiamo e così poi ci concentriamo su un piccolo esempio che probabilmente non riusciamo a finire ma programmiamo un pochettino allora in tutti i linguaggi abbiamo bisogno di gestire alcuni tipi di dati un po' particolari le date sono uno di questi e spesso ne abbiamo bisogno quindi tanto vale parlarne in javascript c'è questo c'è questa funzione date che funziona come abbiamo visto un attimo fa quindi la possiamo chiamare col new e ci crea un oggetto data che avrà le sue proprietà interne anno, mese, giorno ore, minuti eccetera 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 peccato che non funzioni tanto bene diciamo piano piano con le nuove versioni di javascript arriveranno a un punto in cui la rifaranno nel senso ne tireranno fuori una nuova che funziona un po' meglio ma questa purtroppo non funziona così bene perché c'è la questione delle time zone quindi dei fusi orari che diciamo non è gestita benissimo è gestita ma non non è così facile da gestire perché i metodi funzionano in local time quindi nel tempo di una certa fuso orario e non in utc e così via la formattazione è un po' complicata e così via confrontare le date è difficile quindi lasciamo perdere e usiamo una libreria ben fatta gli anni scorsi usavamo moment.js che poi hanno deprecato per diciamo questioni di come dire lo sviluppatore non si sono più messi d'accordo e così via insomma ci sono questioni anche al di fuori del tecnico che possono portare a queste situazioni non perché non fosse una buona libreria ma poi finisce che uno non ha più voglia di mantenerla non è ben pagato fa altro e così via insomma alla fine di tutto questo discorso noi vi consigliamo di usare la day.js ok questo è il sito day.js.org vi andate a vedere le caratteristiche i metodi quando ne avete bisogno qui abbiamo riportato due o tre cosette adesso torniamo su questo però volevo farvi vedere che esiste diciamo tutta una serie di metodi utili quindi possiamo inizializzarla con diverse sintassi trasformare in stringa secondo un certo formato prendere i minuti impostare solo certe parti dell'ora della data fare le differenze prima dopo la data è compresa tra altre due la stessa eccetera tutte cose sembrano banali però sapete che il calendario è un po' complicato tra gli anni bisestili i cosiddetti lip seconds che vengono aggiunti ogni tanto per mantenerci sincronizzati con non so bene cosa diciamo con gli orologi atomici con diciamo con il motto della terra e tutto quanto insomma sono tutta una serie di problemi che ovviamente nessuno voglia di gestirsi a mano e poi se si rigestisce finisce che fa solo più quello e magari sbaglia pure ok quindi usiamo la libreria ci andiamo a vedere la documentazione quando è necessario adesso proviamo semplicemente a diciamo a vedere come caricarla e farla funzionare ok questa è una libreria molto piccola nel senso che ha poche funzionalità di base se avete bisogno di altre funzionalità dovete installare altri piccoli pacchettini estensioni usare questa sintesi per avere quelle funzionalità non è che quello che fa la libreria di base sia sbagliato però non so volete controllare se l'hanno e bisestile e il metodo è al di fuori bisogna installare un pacchettino in più ok ma non è che sbaglia il conto la libreria di base ok una volta che sono registrate questi piccoli plugin si possono usare i metodi che vengono importati questi plugin vediamo però come funziona perché per farla per usarla dobbiamo imparare a gestire la libreria in il node ok allora andiamo a prendere il nostro visual studio code il nostro visual studio code ecco allora i files qui abbiamo una serie di files del momento in cui iniziamo a usare una libreria o più librerie ci creiamo una cartella cioè facciamo l'equivalente di avere un piccolo progetto nostro se no non ci capiamo più niente quindi adesso creiamo una cartella data facciamo in italiano data e qui dentro creiamo test date ok bene allora quindi test data ovviamente è vuoto chiudiamo tutto il resto cosa mi dicono le slide mi dicono che prima di tutto devo usare npm npm è il gestore di pacchetti quindi di librerie di node per dire che prima di tutto voglio usarlo e secondo per installare la libreria no e poi e poi nel codice devo dire che la libreria la voglio usare cioè quindi faccio questo const js ugual require js cioè portami dentro l'oggetto che ha tutti quei metodi definiti dalla libreria però la libreria devo averla installata cioè il codice della libreria deve stare da qualche parte nel sistema no e poi faccio tutto quello che voglio con la libreria come previsto dalle funzionalità messe a disposizione quindi facciamo queste operazioni allora la prima operazione la devo fare nel terminale quindi qui sotto se il terminale non c'è lo aprite new terminal ok nella cartella corretta e mi raccomando data ok perché se lo faccio sopra poi ho tutti gli altri file che mi danno fastidio e ho fatto un pasticcio col progetto quindi facciamo npm init ok npm init mi chiede una serie di informazioni cioè mi sta creando un progetto node ok noi diamo un po' di informazioni il nome data va bene di solito ci sono dei valori default la versione descrizione vuota entry point ecco questo è importante è il file che deve essere eseguito all'inizio quindi un po' come dire il main test come non ci interessa non facciamo nessun test il git ce l'abbiamo già keywords autore licenza va bene tutto ok si ok fondamentalmente aveva schiacciato solo invio ok cosa è successo è successo che è venuto fuori un file che si chiama package.json in cui c'è la descrizione del nostro progetto tra l'altro è un file di testo vedete l'ho aperto editabile possiamo scriverci dentro quello che vogliamo abbiamo cambiato idea sulla versione scriviamo un altro numero salviamo e fine ok se non ci interessa adesso per fare un esempio ok bene adesso però dobbiamo una volta che abbiamo la possibilità di avere un progetto node installare la libreria quindi avevamo npm install dayjs ok andiamo a farlo npm nella stessa cartella install dayjs come facciamo a sapere come si chiama andiamo sulla pagina della libreria e ce lo dirà ok questo nome è un nome messo a disposizione su qualche sito che è pieno di ripositi pieno di librerie javascript per node ok adesso per fare questa operazione ho bisogno della connessione internet che ho mentre per quella precedente era solo una creazione di un file locale quindi qui invece si collega da qualche parte scarica la libreria e me l'ha installata cosa è successo è successo che numero 1 in package json è venuto fuori l'informazione che io uso come dipendenza dayjs che è la libreria ok numero 2 è venuto fuori un package lock json non ci interessa quello che c'è scritto dentro però ci sono scritte tutte le informazioni riguardo alle librerie le versioni eccetera eccetera numero 3 è venuto fuori una cartella node modules enorme ci sono 400 erotti file non ci interessa cosa c'è dentro ok diciamo che ci sono tutti i file della libreria ok quindi ecco tra l'altro ricordiamoci di non fare il commit della node modules sul git quindi spero di ricordarmene prima della fine della lezione poi vi faccio vedere come vediamo solo di importarla e usarla ok quindi abbiamo dove è il codice const dayjs ugual require dayjs ok questo è il modo in node per importare la libreria const dayjs ugual require dayjs ok ponte virgola se volete perché ho chiamato dayjs questo è il nome di una variabile per comodità lo metto uguale al nome della libreria perché sennò poi faccio pasticcia potevo anche chiamarla di poi però devo ricordarmi che in tutto il codice di sta per dayjs no c'è la libreria dayjs e poi una volta che ce l'ho ho a disposizione di tutti i suoi metodi posso fare quello che voglio qui c'era dove era l'esempio ah let now uguale dayjs ok facciamo pure questo e poi lo stampiamo no oppla quindi let now uguale dayjs ok console log now onestamente non so cosa succede stampato direttamente now però c'era il format eh format mi sembra uato no che avrà una formatazione di default eh salviamo eseguiamo node eh l'ho chiamato test date ok è venuta fuori la data con questa formatazione di default se andate sul sito della libreria volete stampare diversamente potete farlo eh ok ehm bene quindi avete la possibilità di andare a ehm usare una libreria esterna questo ci serve perché perché nel momento in cui noi vogliamo creare eh degli oggetti che abbiano dei tipi di dato un po' particolare abbiamo bisogno di queste librerie esterne che so ehm avevamo forse sì non riusciamo ancora più a fare l'esempio che avrei voluto eh adesso ci coordineremo poi con gli altri docenti a capire come fare però ehm i voti ok diciamo che io voglio eh voglio creare ehm ah ecco lo uso strict eh questa volta non me l'ho più ricordato eh uso strict sempre eh diciamo che io voglio creare un ehm farmi il libretto eh quindi voto con il nome del corso la data ok in cui ho dato l'esame ok allora eh voglio un array no quindi il mio diciamo così eh let libretto eh sarà un array di qualcosa eh adesso sto programmando un po' così a naso eh eh come faccio a eh a decidere cosa ci metto dentro dentro posso metterci degli oggetti no potrei metterci let diciamo esame eh metto let eh giusto perché poi magari voglio modificarlo eh ma per dire eh cos'è eh facciamo codice o facciamo nome eh eh va1 no a v1 siamo in italiano e eh voto eh 30 per ora lasciamo per le tante note che ci se no dobbiamo fare stringa e poi facciamo data data e data ci ci facciamo ci mettiamo dentro un oggetto dayjs ok eh per esempio adesso non abbiamo tempo di andare a guardare sulle sulle pagine però se voi mettete dayjs manual non so comunque il sito di prima dayjs eh andate a vedere come si fa a creare una nuova una nuova data adesso questa è per stamparla ma per crearla pars 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 andate a opla eh dovete usare un certo formato piuttosto che usare un altro metodo e così via no eh allora se abbiamo la libreria bisogna scrivere dayjs che alla fine è una funzione richiamabile e eh sì qui abbiamo visto che funziona con un iso quindi t2 oggi è passiamo all'esame oggi 0303 ok eh quindi eh console log eh esame tanto per vedere cosa stiamo combinando eh ok quindi ho il mio oggetto vabbè la prima stampa potevo anche buttarla via ho il mio oggetto e ovviamente poi c'è il contenuto di data eh che è un riferimento ad un oggetto che ci ha dato dayjs che avrà dentro le cose sue eh il console log me lo apre eh però io di per sé non vorò mai stamparlo così lo stampo per esempio col format no quindi eh se voglio farmi una funzione apposta per stampare questa informazione devo farmi una funzione che quando arriva al campo data mi fa eh data.format così me lo metto in un formato decente non questa cosa qua eh ecco eh vorrei solo farvi vedere visto che abbiamo proprio poco tempo pochissimo eh possiamo provare a creare una eh funzione che crea un oggetto eh function exam eh in cui metto nome voto data ok poi vi metto eh questo file sul sul git lo facciamo come abbiamo visto prima eh con l'idea di chiamarlo poi col new quindi dis punto nome uguale nome dis voto uguale voto dis data uguale data ok e volendo potremmo anche metterci un metodo poi per per stampare eh possiamo anche farlo facciamo così dis print eh facciamo eh function eh 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 facciamo sol anzi facciamo una string diciamo st facciamo così function function eh possiamo fare return facciamo il backtick così facciamo pratica cerchiamo di mettere un po' tutto insieme sto andando proprio a naso quindi spero che non spagnolo adesso non ce l'ho più il backtick su questa tastiera dove diamo è finito ah su linux dove è andato a finire il backtick aiuto eccolo qua ah ok quindi usiamo il template literal eh allora eh quindi con le graffe dis nome eh poi dis vuoto vuoto e poi possiamo mettere eh cos'era digs no quindi dis data format eh che dovrebbe darci una stringa ok e quindi noi possiamo anche creare un nuovo esame eh cost esame 2 uguale new exam eh quindi date anche il corso in inglese eh ok anche lì siete bravissimi prendete 30 eh 30 31 dai 30 lode e eh la data la data però la data è un po' più avanti eh non si possono dare tutti gli esami insieme dai giorno dopo ok eh facciamo un po' un sol log eh esame 2 punto str e lo chiamiamo no? perché è una function ok e togliamo l'altro vediamo se ho fatto qualche pasticcio qui credo c'è che no allora terminale ecco c'è sempre qualcosa che non va new exam ah già ovviamente un parametro data non è che devo darglielo ok ok mi è venuto fuori bene un po' di corsa eh quindi abbiamo creato una nuova funzione una funzione di quelli che possiamo invocare col new abbiamo scritto dentro col this i le le proprietà e una di queste proprietà è una funzione che crea la stringa di quanto è contenuto dentro diciamo così l'oggetto eh e semplicemente facciamo new e le invochiamo eh e possiamo possiamo diciamo emulare un po' il comportamento magari non degli oggetti ma diciamo almeno delle struct eh delle 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 struct del cc++ eh eh dei dei linguaggi diciamo più più tradizionali allora vi faccio vedere cosa bisogna salvare sul git e poi basta eh e poi chiudiamo mi raccomando non non fate mai il commit di node module se non serve a niente anzi da solo fastidio riempio i repository di roba che non serve quindi noi stiamo all'occhio e eh facciamo il commit solo di questi due file eh adesso è pieno eh ma noi interessa ovviamente il file che abbiamo scritto no e poi il package json no il package json ci può servire ma non è necessario sì 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 possiamo mettere node module su gitignore solo se solo che però mi buttano fuori eh e vi lo metto e se non avete se avete domande mi chiedete in privato che dobbiamo far entrare gli altri ragazzi ok grazie e quindi esempio data push ok 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 ciao ok ciao beaut qui ום